Bella raga, oggi ci stiamo facendo una bella lavata perché ho accumulato veramente tanta roba e io più o meno mi regolo quando arrivo ad avere il 25 per cento di panni come potete vedere la vanteria a gettoni 5 euro di lavaggio 2 euro di asciugatura 15 minuti alcuni rimangono ancora umidi e cosa faccio li prendo e li stendo sullo stendino che ho messo su in camper altri magari tipo mutande magliette che sono più leggere asciugano direttamente dopo l'asciugatura più o meno una volta ogni 20 giorni fai questa operazione li butti dentro anche le lenzuola io faccio sempre lavaggi sui 30 40 gradi quindi sempre con una temperatura che che non mischia i colori perché tendenzialmente visto che ho la panza metto roba nera così era un semplice aggiornamento perché questo fa parte come tante altre cose come il carico acquichiare il carico acquigrige nere fa parte della vita in camper ciao ragazzi alla prossima ciao